Noi non accettiamo da chi ha rubato per anni, da chi ha rubato per anni, noi non accettiamo Ma cosa c'è per l'aiuto adesso? La fotografia, il voto, la fotografia, il voto, la fotografia, il voto, la fotografia, il voto, basta la classifica Abbassiamoli, fermi, fermi, la classifica dai, zitti, velocemente Velocemente, non vi leggo la side B, anche se però guardate bene il Bologna che Balzo fa grazie a stasera Oggi pomeriggio lo trovavamo in questa zona qui e adesso lo troviamo in side A Ha cambiato del tuo side Poi allora, leggiamoci l'ultima parte Certo Lodinese 41, Catania 42, battuto oggi al 92, ma va bene Eh, capita, capita Basta farli, basta dominare una partita che abbiamo fatto noi Roma 44, Inter e Lazio, eccoli lì, a braccetto, insieme 47 In questo momento siete entrambi, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Una delle due deve andare fuori, no? Sì Deve andare fuori dall'Europa lì, quindi la dovete giocare Fiorentina che sale Sì Milan che viene spinto Sì Napoli che resta con il mandolino Santa Chiara E adesso vi dico solo una cosa, per il vostro bene Dove va? Cosa fa? Per il vostro bene Ah, si è messo la paniera Per il vostro bene Sì, sì Ve lo dico chiaro Sì Visto che stasera siamo a più nove, direttore Sì Arrendetevi! Ma come arrendetevi? Arrendetevi! La Juve è in testa classifica lì Grazie Grazie Grazie